... Chi avrà la meglio? Beh, continuate a seguirci. Grazie a tutti. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Primo tempo alla Bombonera che finisce dunque. Spadra riposta dopo i primi 45. Spadra riposta dopo i primi 45. Spadra riposta dopo i primi 45. Palla importante. Spadra riposta dopo i primi 45. Spadra riposta dopo i primi 45. Spadra riposta dopo i primi 45. Passano i minuti, si avvicina la fine con gli ospiti che devono inevitabilmente affrettare i tempi se vogliono il pari. L'importante però è in area, non può sbagliare da lì. E il pallone entra, adesso era doppio del vantaggio. Finisce il match, formazione ospite che deve lasciarsi al più presto alle spalle questa sconfitta. Una sconfitta meritata.